Le peculiarità della Valtiberina non sono quelle del Casentino, le difficoltà sono sicuramente diverse e a volte anche totalmente diverse da Arezzo. Dunque questa richiesta parte forte dai nostri territori, la risposta deve essere altrettanto forte e rapida. No al distrettone unico, le nostre vallate tornino distretti autonomi. Questa la richiesta che arriva dal Casentino e dalla Valtiberina, inviata alla Regione Toscana. Tutti i consigli comunali delle due vallate hanno infatti approvato all'unanimità un documento affinché la Regione ridisegni i confini dei distretti sanitari, dividendo il distretto unico e consentendo a Casentino e Valtiberina di tornare così indipendenti ed autonomi. Riteniamo fondamentale per le nostre comunità, comunità comunque marginali, fragili, di montagna, che hanno necessità di avere un punto d'incontro fra la sanità e il locale che sia vicino, vicino alle persone. Questa è la richiesta forte che parte da tutti i consigli comunali delle due vallate. Un'autonomia dal distrettone, quello che viene chiamato distrettone, che è Arezzo, Valtiberina e Casentino. Dobbiamo ritornare all'autonomia della Valtiberina e del Casentino, perché la puntualità, la presenza, le responsabilità in luogo sono fondamentali per rispondere coerentemente e correttamente alle esigenze del cittadino. La documentazione, frutto della sinergia dei 17 sindaci e consigli comunali, adesso è pronta ed in questi giorni sarà inviata alla Regione Toscana. Se la Regione ci farà tornare dei distretti autonomi di Casentino e il distretto di Valtiberina, certamente saremo maggiormente in grado di ascoltare i bisogni ai nostri territori e fare delle politiche sanitarie insieme all'Asia in grado di soddisfare questi bisogni. Purtroppo nel distretto grande la direzione è troppo lontana dai territori e quindi si rischia di risperdere quelli che sono i fabbisogni e soprattutto di non essere in grado di dare risposte certe ai nostri cittadini.